E passa per il tornante da Tadocco, ecco i rilevamenti cronometrici, Gian Greco alla Scicanna, 3A la classe e poi numero 20 intanto arriva Pisacane alla Scicanna, passaggio pulito senza problemi, numero 20 Francesco Stuni, Peugeot 106, gruppo Racing Start della Pasano Corse, classe 1A, il numero 12 beccato, vediamo che riparte, non appena si completerà il primo giro avremo i primi rilevamenti cronometrici, terzo challenge Terra D'Otranto, qui all'accanto mondiale, la conca, sede lo scorso settembre del campionato mondiale di Canada, è la porta velocissimo Francesco Marotta, il numero 33 con la Peugeot 205, nella Casalano Rale Timma ed ecco il numero 31 è il numero 31 ecco il numero 33 con la Peugeot 21 è il numero 33 con la Peugeot 21 corso l'amorizzazione la festa la festa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo Gian Greco, terzo Mergola.